La nuova giunta c'è, la quadratura politica pare di no. E' infatti presto per capire come l'avvicendamento di due assessori nell'esecutivo guidato da Franca Ingrillia abbia mutato gli equilibri in Consiglio Comunale, dove il sindaco si dice convinto di poter contare ora su 10 consiglieri, su 16. Il ritorno in maggioranza del datriscari, Massimiliano Fardelle e Daldoleggio, quest'ultimo entrato in giunta senza lasciare la carica di consiglieri in contrasto con gli accordi di campagna elettorale, hanno numericamente rafforzato l'esecutivo, ma i dubbi sulla tenuta rimangono e sono molto concreti. Dubbi politici legittimi per i malumori che cominciano a venire allo scoperto. E con ogni probabilità il primo giorno utile per cominciare a parlarne potrebbe essere domani, quando il Consiglio Comunale tornerà in aula per nominare il revisore dei conti. Difficile infatti che la minoranza si lascia scappare l'occasione per tirare in ballo le decisioni di Franca Ingrillia. Interessante anche comprendere eventuali assenze strategiche in aula. I dissapori maggioranza che il rimpasto ha gravato sono rumors sempre più insistenti e in qualche caso anche qualcosa di più importante. Felice Scaffidi nelle sue dimissioni di giovedì scorso parla di posizioni divergenti ed autonome nel gruppo Partiamo da Capo. Enza Giacoponello, nonostante proprio le dimissioni di Scaffidi abbiano indebolito la sua posizione, avrebbe mal sopportato il dietro front verso il suo ingresso in giunta di Ingrillia, visto che già due anni e mezzo fa era stata costretta a fare un passo indietro per la mancata elezione. Così questa mattina ha dato il primo scossone rimettendo le deleghe che aveva ottenuto da consigliere quasi due anni fa. Erano relative al commercio e all'area finanziaria. Giacoponello mette nero su bianco nelle sue dimissioni il cessato rapporto di fiducia col sindaco. Non si comprende se questo vuol dire che lasci anche la maggioranza. In questo momento non l'ho fatto, dice il consigliere ad una nostra telefonata, ma sto riflettendo su quanto è successo negli ultimi mesi. Vedremo. I maggioranzi inoltre sono in molti. A fare buon viso a cattiva sorte verso Aldo Leggio, che non ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere, lamentando la disparità rispetto a Susanna Di Belle e Rosario Milone, defenestrati dalla giunta senza paracadute in aula. Infine, l'ultima grana pare essere quella intorno al nome di Sara La Rosa. Apprezzata dall'intero consiglio per la sua professionalità nella lista orlandina, sono in tanti a sostenere che il suo nome, benché di qualità, non sia stato indicato dallo schieramento come gli equilibri e gli accordi politici imponevano. Così, tra gruppi whatsapp proventi o eliminati, frase sussurrate in piazza, ventilate dimissioni e post polemiche sui social, bisogna capire nei prossimi giorni se si tratti di mal di pancia e contare chi ancora ci crede. Grazie.